A due mesi dalla terribile morte di Giulia Cecchettin proseguono le indagini per la ricostruzione del delitto. I RIS stanno analizzando ogni dettaglio all'interno della punto nera di proprietà di Filippo Turetta. Dentro l'auto verrà eseguito un particolare esame che studia la forma e la traiettoria seguita dal sangue. Ovviamente all'interno dell'auto di sangue ce n'era molto, ma lo studio dovrà appurare se Giulia fosse ancora viva quando è stata caricata nella macchina o se fosse già senza vita. Ogni in particolare dell'auto e del suo contenuto è in fase di analisi. Nei prossimi giorni verrà conferito dal PM l'incarico per analizzare il telefono, i sacchi e il coltello ritrovati a bordo. Si tratta di accertamenti irripetibili ai quali parteciperanno anche i consulenti tecnici nominati dalle parti, i difensori di Turetta e i legali della famiglia di Giulia.